Nella Val di Schatte, via Visconti, di Garbiate, nel cortile di Bunazzina, che lì va a prendere le ciliegie in cantina perché allora il frigo non c'era. Ecco le ciliegie arrivano e poi passa davanti al lavatoio, il cancello di entrata e la casa dove abita, che si travede la porta. Esce che sta mangiando le ciliegie e butta via il nocciolino. Qui si pulisce bene e va nel cortile a chiacchierare con i suoi amici che sono lì. Ecco, lei ha capito che c'è una foto, la mamma, la nonna arriva, questo è Nadia, che stava mangiando anche le ciliegie, gli fa una passeggiatina che io ho svolto subito. Lì arrivo, toglie Bunazzina, a prendere l'acqua, qua c'è un discorso con la nonna, con tutti. e sta a far da mangiare, per dar da mangiare alle galline. Ecco qua è Gino Busis, che sta parlando con Toin Bunazzina. Ecco arriva la moglie di Toin, Rosina, Rosin, che passa via Coccatino, che va a buttare via l'acqua sporca. E cercavo a letto per il letame, per il gelo del letame, fuori dalla stalla lì, la finestra della stalla, e stanno facendo il pomeriggio di domenica lì. Grazie a tutti.